Il gancio di James si rotta, ha ribalto con il pallone recuperato da Dyson, Provenza 2, pallieggi per uno scatenato Dyson, va ad attaccare e poi subisce il pallo, ma cosa ha fatto? Geron Dyson! Cos'è la potenza di questo giocatore? O l'attacchita, o guardate, come cambia il velocità. Poi resista il contatto. La forza in poco tempo e velocità.